Ed ora una grande voce, un soprano russo, interpreta le intramontabili opere della lirica e della tradizione napoletana in maniera esemplare, con una versione singolare della Carmen di Bizet e l'intramontabile O Sole Mie. Al piano il maestro Carmine Cagliazzo dirige il maestro Ernesto Sparago, canta Elena Martemianova. Grazie. 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 L'amore 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 L'amore